Cari amici followers, notizia dell'ultima ora, le scrofe mafiose aliene assolutamente non mi rivolgono rimandare sulla terra perché vorrebbero essere lavate da me. Presumo per la prima volta, perché ricordo che le aliene sono delle scrofe immonde, quindi dormono nei porcili, mangiano escrementi, bevono piscio e vomitano sperma. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!